Benvenuti a tutti voi ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono il vostro caro Mastroking e siamo qui appunto in un nuovo video vlog Allora, come non direi tra poco, ho cambiato la mia intro del canale Che l'ho fatta un po' più carina e quindi direi ora il momento di mostrarvela Detto questo, appunto, volevo parlarvi un po' di cose in generale Ovvero che delle novità sul canale Perché come ben sapete ogni tanto faccio un video vlog In cui mostro le novità che porto sul canale E video nuovi, appunto, riprendo serie vecchie e tutto quanto Quello che volevo parlarvi, appunto, in particolare dei video, appunto, di due video che ho fatto Ovvero su quelli che... su cosa portate sul canale E su come ottenere visualizzazioni e scritti sul canale E appunto un vecchio remake, diciamo Che ogni tanto, inizialmente non ho aperto il canale, facevo parecchi video tutorial In cui spiegavo delle... determinate cose E quindi, quest'oggi, appunto, volo... questi giorni volo riportare dei video tutorial In cui vi spiegavo, appunto, che cosa portate sul canale E come ottenere alcune iscritte e visualizzazioni in più sul canale stesso Poi detto questo, ho portato due video, uno con 0,4 e uno da solo Del... del fantomatico stalker della Bibbia Io non so chi sia E... sinceramente spero sia uno scherzo da parte di qualcuno Però, in un certo senso, mi sono claro che mi sta creando dei contenuti a voler portare sul canale E quindi, spero che questo tipo di video vi possa piacere, vi possa interessare soprattutto E detto questo, poi ho portato un remake Una vecchia serie, ho cominciato e mai conclusa Ovvero quella di Pokémon Rossofuoco Che mano a mano, comunque, sono... L'ultima volta che l'ho portata, ero arrivata alla Vandonia E... in questo nuovo episodio, appunto, sono andato un po' avanti E... ero arrivata alla Vandonia e poi mi ero stoppato Perché, praticamente, mi è cresciuto al computer e ho perso tutti i dati E quindi, piano piano, sono arrivato allo stesso punto nella Vandonia E quindi, sono potuto ricominciare da quello stesso punto Poi, stesso lavoro dovrò fare per... Sky Factory Che... non la porto da ancora molto più tempo Però, ancora non sono riuscito a recuperare tutto quello che avevo fatto Però, a questo punto, vorrei aspettare un altro po' Per riportare la Sky Factory Perché? E... perché, appunto, era un motivo molto semplice Perché... perché? E ora, questo è il momento in cui mi dovrò comprare il computer nuovo Già sto mettendo i soldi da parte E... questo computer nuovo costerà intorno... Costerà parecchio Intorno al 2000 euro Quindi... Un bello prezzo Quindi, piano piano, sto mettendo la parte i soldi Per... questo computer E quindi... E... Proprio per questo porterò... Riporterò di come continuerò la Sky Factory Una volta avrò comprato questo computer Che sicuramente sarà molto più potente del mio E... perché il mio computer in particolare Ha... i suoi annetti a 10 anni Questo computer Infatti, quando lo comprai E... lo... E comunque è sembrato a casa Tutto quanto allevo era un signor computer E... sicuramente appunto... Era all'epoca di Windows Vista Quindi era appena uscito Windows Vista E quindi... Se vuol dire che un computer abbastanza vecchiotto Poi... sto... Portando qualche... Ultimamente sto portando sul canale qualche streaming In particolare l'ultima streaming Ho fatto su Buttercamp E su... E... come si chiama? Crash Royale Però... Non esito a fare altre video su... Sul telefono Quindi... In questo... In queste due settimane Sono un attimo fermato Dopo la streaming Sono un attimo fermato Con i video per telefono Però... Ho intenzione di portarne degli altri Battlecamp E... Mi è piaciuto un casino Appena l'ho cominciato Però con il tempo Mano a mano giocando Ci mi sta piacendo sempre meno E quindi non so se Continuerò la serie Cioè se finirò tutto il gioco Però... Credo che qualche altro episodio Ve lo porterò E... Comunque vuoi consigliare Qualche gioco Da voler portare sul canale Semmai avere qualche gioco In particolare Che vi piace E... Detto questo Direi Che per questo video È tutto Spero che Il video vi possa essere Vi possa essere piaciuto Se è così Spolliciate Iscrivetevi al canale Seguitevi su Twitter Instagram Facebook Ovunque voi vogliate Ciao a tutti voi